Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Siglia e oggi nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, ma soprattutto vi ricordo che sono attiva anche su Facebook. Vi lascio il link nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. Questa è la storia di una ragazza che, per amore, ha rinunciato alla vita che desiderava, ma che, proprio da quell'amore, è stata uccisa. Questa è la storia di Federica. Tutto inizia a Montorio, in provincia di Verona. È proprio qui che Federica e Michele si conoscono durante le uscite e gli appuntamenti nel bar del paese. Il loro amore, in realtà, nasce da adolescenti, più o meno verso i 16 anni, e va avanti per anni. Il paese è piccolo, tutti si conoscono e i due sono più uniti che mai. Si vedono ogni giorno, escono spesso, sono quasi sempre insieme. In un'altalena di alti e bassi, Federica e Michele si prendono e si ritrovano. Ma facciamo un passo indietro. Chi è Federica? Federica nasce a Montorio, in provincia di Verona, nel 1972, la prima dei tre figli. Sua madre, Loredana, è infermiera a 18 anni quando la mette al mondo e la cresce da sola, aiutata dai suoi genitori, perché il padre di Federica non è molto presente. Si tratta di un uomo con il quale la mamma di Federica ha un rapporto tormentato. I due si lasciano e si riprendono spesso fino alla rottura definitiva. Federica viene descritta come una persona solare, ma abbastanza dura, anche nei sentimenti. È molto sicura di se stessa, le piace studiare, gioca con le bambole, è molto femminile a differenza di Gabiria, sua sorella, che si descrive come un maschiaccio. E infine c'è Luca, che viene visto un po' come la pecora nera della famiglia. Sia Gabiria che Federica lo punzecchiano di frequente e bisticciano spesso, ma alla fine fanno sempre pace perché si vogliono molto bene. Dopo le scuole medie, Federica si iscrive all'istituto alberghiero perché ha già le idee chiare, da grande sogna un lavoro che la faccia viaggiare. È una ragazzina sempre felice, molto ambiziosa, tanto che, mentre va a scuola, inizia a fare qualche lavoretto in dei ristoranti della zona. Federica ama cucinare e a 14 anni, col suo primo stipendio, compra un motorino tutto per sé. Insomma, è una giovane molto tenace e quello che sostiene di voler ottenere, alla fine, lo ottiene sempre. Federica lotta, non si limita a desiderare e basta. Fin da piccola fa di tutto per raggiungere i suoi obiettivi. Crescendo la ragazza diventa sempre più bella ed è molto corteggiata dai ragazzi del paese in cui vive. Ma c'è un ragazzo in particolare che continua a farle la corte. Si chiama Michele. Parliamo anche di lui. Michele è descritto come un ragazzo per bene e benestante. Ha le spalle coperte perché la famiglia lo aiuta e lo protegge a livello finanziario. Le altre persone, guardandolo dall'esterno, vedono un'icona, un esempio da seguire. Michele è il primo di due figli. I suoi genitori hanno un'azienda di servizi ben avviata e la gestiscono con gli zii. Michele lavora con loro. Appena esce dalle scuole medie, quindi Michele in un certo senso ha già un lavoro che lo aspetta e un futuro sicuro. Sarebbe diventato il dirigente dell'azienda di famiglia. Viene descritto come un grande lavoratore non solo per l'attività che svolge in azienda, ma anche perché non si fa problemi a fare anche altri lavoretti ben più umili. Mi spiego meglio. Quando lavoro manca qualche dipendente, aiuta prendendo il posto dell'assente. Insomma, non è un ragazzo che sta con le mani in mano, infatti non ha problemi a darsi da fare e ama molto aiutare il prossimo. Contemporaneamente bisogna pensare che Michele non sa cosa voglia dire non avere la possibilità di fare qualcosa per mancanza di soldi. Può tranquillamente togliersi tutti gli sfizi e i capricci che vuole. La prospettiva lavorativa di Michele è di prendere in mano le redini dell'azienda di famiglia. Prima o poi sarà lui a guidarla. Intanto Michele lavora col padre e non avendo problemi di soldi conduce una vita agiata, concedendosi senza limitazione tutto quello che desidera. Come già detto, Michele e Federica quando si conoscono sono piccoli e conducono due vite molto diverse. Federica è cresciuta senza un padre, mentre Michele del padre prenderà il posto nell'azienda. Federica il futuro se lo deve creare da sola, mentre in qualche modo quello di Michele l'ha già creato per lui la sua famiglia. Dopo aver preso il diploma Federica inizia a lavorare in un'agenzia di viaggi. Il suo rapporto con Michele va avanti da due anni, ma quando inizia a partire come animatrice nei villaggi turistici, di fatto la relazione si interrompe. Anche perché in quel momento Federica è concentrata sul suo sogno, girare il mondo grazie al lavoro. Fin da piccola è attratta dall'idea di viaggiare, di conoscere nuove persone e nuove culture. La ragazza passa dalla Sardegna al Brasile all'isola di Zanzibar. Sta fuori per mesi ed animatrice diventa direttrice del personale dei villaggi in cui lavora. Questa è proprio la vita che sognava. Michele ormai appare come un ricordo lontano. Quando finisce un contratto per un villaggio turistico, ne cerca subito un altro per ripartire entro un mese o massimo due. Fosse stato per lei, non sarebbe neanche mai rientrata a casa. La vita che è riuscita a costruire impegnandosi e lavorando duramente, le piace molto. Poi, col tempo e grazie ai molti viaggi, Federica trova il suo grande sogno. Aprire un ristorante in Messico. Nel frattempo però, tra un viaggio e l'altro, la ragazza torna a Montorio, il suo paese d'origine, per poter trascorrere un po' di tempo con la mamma e il resto della famiglia. In uno dei suoi rientri in Italia, Federica rivede Michele. Il ragazzo le confida che, sebbene siano passati dieci anni e abbia avuto altre storie, è ancora innamorato di lei. I due ricominciano così a frequentarsi, anche se Federica dopo poche settimane deve ripartire. E questa volta la destinazione è il Kenya. La ragazza quindi parte. Michele, a differenza di Federica, ha una gran paura dell'aereo. Non è quindi solito seguirla nei suoi viaggi. Ma durante quell'estate riesce a superare la paura e arriva in Kenya, facendo una sorpresa a Federica, che si trova lì ormai già da sette mesi. Per la ragazza quella è una sorpresa inaspettata, ma ne è contenta e lusingata. Durante quel viaggio lei e Michele si rimettono assieme e succede qualcosa di importante, che cambia per sempre il corso della vita di Federica. La ragazza rimane incinta, ma per quasi tutta la gravidanza non torna in Italia. In occasione della nascita del primo figlio, però, Federica lascia il Kenya e torna in Italia, nel suo paesino, tra le colline veronesi. Lì fa nascere il suo bambino e va a convivere con Michele in una casa in affitto, ma decide di non sposarlo. Quella scelta in realtà alla fine sta bene a tutti e due. Quando il bambino inizia a crescere, Federica ha molta nostalgia dei suoi viaggi e fa una proposta a Michele. Partire insieme, compreso il bambino, per un villaggio turistico in modo che lei possa riprendere il suo lavoro. Federica, infatti, ha visto più volte che nei villaggi turistici ci sono molti genitori italiani. Persone che hanno scelto di tornare a viaggiare, di tornare a fare quel lavoro, anche con i bambini piccoli che indubbiamente si divertono tantissimo. E anche il sogno di Federica è quello di tornare a viaggiare con la sua famiglia per continuare a fare il lavoro che ama. Michele però non è di questa idea, la blocca, la ferma. Non è d'accordo con la compagna e fa prevalere la sua decisione rispetto al desiderio di Federica, che si ritrova a dover dipendere da lui economicamente. Intanto il tempo passa e rimane nuovamente incinta. La sua famiglia si rende conto che la ragazza non è felice. Non vedono più la stessa giovane piena di gioia di qualche anno prima. Federica non può continuare a fare il lavoro dei suoi sogni e questo la fa soffrire molto. Poco dopo la nascita del secondo bambino, nella vita di Federica e Michela scoppia un problema che stravolgerà la loro esistenza. La causa di tutto è Michele che reagisce male a una crisi aziendale. Mi spiego. Michele ama fare rally e come sponsor ha la sua stessa azienda. Ora però l'azienda del padre e dello zio non può più permettersi di sponsorizzare le sue gare. Michele vive male questa decisione e per ripicca sottrae dei soldi dalla cassaforte aziendale. Anche perché a mio avviso Michele con la vita che ha condotto non si è mai sentito dire un no non lo puoi fare o un no non te lo puoi permettere. Lo zio di Michele racconta che una notte ha trovato la cassaforte aperta e vuota e richiene che a rubare il denaro sia stato il nipote aiutato da alcuni operai. In azienda scoppia la bufera ma i parenti, soprattutto lo zio, insabbiano l'accaduto dicendo a Michele che non avrebbero sporto denuncia contro di lui solo se avesse accettato di essere estromesso dalla società. Ma Michele non può accettare quello che per lui è un vero e proprio affronto infatti sempre come ripicca brucia un Audi A4 di proprietà di suo zio. Così come per la cassaforte anche per la macchina non c'è nessuna prova che a bruciare l'auto dello zio sia stato Michele. Ma lo zio non ha dubbi. L'uomo è convinto che Michele abbia sempre più bisogno di soldi anche se il motivo per ora non è ancora chiaro. Michele parla sempre molto male dello zio a Federica arrivando quasi a convincerla che l'uomo frequentasse delle passeggiatrici che andasse a donne. In breve la causa della crisi aziendale è lo zio che ha speso tutti i soldi per i suoi vizi. La lite con lo zio e l'uscita dall'azienda di famiglia mette Michele in seria crisi economica. In quel periodo tra l'altro non lavorano né lui né Federica. Chiaramente ad aiutarli ci sono sia i genitori di Michele che la mamma di Federica ma con due bambini e un affitto da pagare i soldi non bastano. La rapina alla cassaforte innesca una serie di conseguenze che portano a dei drastici cambiamenti. Federica non è felice della vita che sta conducendo ma almeno prima aveva una sicurezza. Quella economica. Adesso invece il suo futuro si adombra di incertezze. Michele è sempre molto nervoso e il loro rapporto giorno dopo giorno cambia. Cambia. È proprio infatti in questo periodo che Federica prende la decisione di trovarsi un lavoro. Qualsiasi lavoro. Purché riesca a mantenere i due figli e a rendersi economicamente indipendente da Michele. Federica vive per i suoi bambini. Loro sono tutto il suo mondo. In questo caso sono di nuovo i genitori ad andare in soccorso a Michele. Suo padre lo aiuta a mettere su una nuova azienda. Una società di traslochi per le imprese. Apparentemente sembra tutto risolto. Michele ha un nuovo ufficio e i clienti non mancano. Ma è lui che questa volta proprio non riesce a concentrarsi e a fare bene il suo lavoro. In quel periodo tutti la notano. Michele è scostante, sempre agitato, scatta per un non nulla ed è molto facile farla arrabbiare. È a questo punto che arrivano le supposizioni. Forse l'uomo ha iniziato a far uso di coca considerando che non ha soldi neanche per pagare l'affitto. Si arriva al punto in cui è sua madre a dargli quei soldi per pagare l'affitto ma lui non li dà mai in casa se li brucia tutti in pochissimo tempo. Col passare dei mesi Michele trascorre sempre meno tempo a casa con Federica. Dice di essere molto preso dal lavoro ma lei comincia a sospettare che ci sia altro sotto. Infatti troppe volte lui torna a casa a notte fonda dopo aver passato la serata a far uso di coca e non intendo quella che si beve. È proprio da questo momento che i problemi si aggravano. Michele a Montorio si dimostra sempre lo stesso ragazzo ma quando non ha a che fare con i suoi genitori o ancora con Federica si trasforma, diventa quasi un'altra persona. Secondo la sorella di Federica Michele conduce una vera e propria doppia vita della quale all'inizio si accorge solo lei. Gabiria, la sorella di Federica lavora in un bar discoteca fino alle 3 di notte. Si beve tanto in quel bar ed è per lei chiaro che ci sia un giro di sostanze. Nel locale dove lavora la ragazza incontra spesso Michele perché lui va lì a passare la nottata in compagnia di amici e amiche soprattutto di amiche per essere precisi. Cosa accade in quel locale? È noto a tutti nel paese. Si beve e si consuma coca tutta la notte e in quel giro purtroppo c'è finita anche Gabiria. È Michele che di solito gliela offre perché sa che anche Gabiria ne fa uso e quando ne fanno uso insieme Michele si lascia andare ad alcune esternazioni non molto positive nei confronti di Francesca. L'uomo dice a Gabiria che ha scelto proprio la sorella sbagliata. Avrebbe dovuto mettersi con lei in quanto conducono una vita simile. Michele così facendo conquista sempre più potere su Gabiria. La ragazza in realtà sa che non sta conducendo una vita equilibrata. Tenta spesso di allontanarsi dalla sostanza maimè l'ambiente in cui lavora è quello e Michele non manca mai di fargliela trovare sotto al naso. La domanda che Gabiria si pone è dove vuole arrivare Michele? Vuole forse iniziare a tradire Federica con lei che è sua sorella? Intanto la mamma di Federica sempre più preoccupata per la sorte di Gabiria le chiede di ospitarla a casa per un periodo. La sorella minore ormai conduce una vita tutto fuorché equilibrata non ha una fissa dimora va a dormire a casa di ragazzi o ragazze che ha conosciuto al bar persone di cui non sa assolutamente nulla e che quindi potrebbero farle del male. Gabiria quindi prova a ripulirsi e inizia a stare a casa di Federica in quanto mamma Loredana spera che una maggiore vicinanza tra le due sorelle possa aiutare la più giovane a cambiare vita. Quest'ultima però a casa di sua sorella non ci vuole stare sente che quello non è l'ambiente giusto per lei sono troppo diverse. Gabiria descrive Federica come una perfettina mentre lei è tutto fuorché perfetta. Chiaramente Federica prova ad allontanare Gabiria da certe situazioni ma quest'ultima di cambiare non ne vuole proprio sapere. Federica si assume il compito non facile di portare sua sorella verso una vita più sana. Per questo inizia ad essere molto autoritaria con lei ma Gabiria non ci sta quindi ben presto sparisce senza avvisare nessuno. Si trasferisce e inizia a vivere in una casa occupata da Tunisini. Federica la cerca ovunque scrive dei volantini fa delle fotocopie li incolla ovunque vuole ritrovarla presto e pensa al peggio la vuole allontanare da quella vita così problematica che sta conducendo ma Gabiria per quanto riconosca i suoi sforzi non riesce proprio a legare con sua sorella sono davvero troppo diverse. Federica soffre molto per Gabiria è preoccupata per la sua sorte la vede perdersi e si sente impotente. Ogni volta che prova a farla stare a casa da lei Gabiria resiste qualche giorno poi non ce la fa e scappa. Michele dal canto suo va sempre a prendere Gabiria quando finisce di lavorare al bar se non partecipa alla serata. L'uomo dunque la recupera vanno insieme a casa di Federica si fermano in macchina sotto l'abitazione e puntualmente le mette sotto il naso la sua stanza ogni singola volta. In questo periodo praticamente si vedono più Gabiria e Michele che Federica e Michele. Federica ignora questa doppia vita del padre dei suoi figli ignora tutto mentre sua sorella alterna momenti di fuga e di ritorno. Michele si dimostra preoccupato per Gabiria con Federica le dice che si occupa lui di andarla a prendere in macchina al lavoro o nei bar che frequenta quando è il giorno libero anche per vedere in che stato si trova e con questa scusa stando a quanto Gabiria ha raccontato chiaramente lui ci provava con lei molto spesso anche perché ogni volta che Michele la va a prendere Gabiria rimane a dormire a casa sua e di Federica. La doppia vita di Michele però non è perfetta infatti Federica scopre che lui ha un'altra relazione e che quindi la tradisce. Un giorno mentre Gabiria a casa di sua sorella sta giocando con i bambini tra Michele e Federica scoppia una forte discussione è stata Loredana la mamma di Federica a dire alla figlia che probabilmente Michele ha una relazione extraconiugale Michele detesta Loredana non la può vedere la donna ripete a Federica che il suo compagno è un bugiardo spesso le dice che è in un posto quando si trova da tutt'altra parte e non si impegna neanche così tanto per nasconderlo durante la lite la rabbia di Michele cresce sempre di più fino a esplodere l'uomo diventa molto aggressivo mette le mani al collo a Federica e non si ferma testimone di questo brutto momento è Gabiria la sorella Federica non sa più che fare piange sempre più spesso insulta Gabiria le urla di tornare da Loredana e spesso minaccia di allontanarsi con i figli perché non ce la fa proprio più Michele se ne va sempre non dice dove sia diretto e poi con Gabiria si sfoga ripetendole che Federica è pazza Gabiria però a questo punto non sa come comportarsi Federica con lei non si apre non parlano anzi cerca di allontanarla dal rapporto che c'è tra lei e Michele dicendole che non sono affari suoi e che dovrebbe preoccuparsi dei suoi problemi il sogno di Federica di avere una famiglia serena dopo quella violenza si infrange spesso la mamma Loredana le propone di andare dai carabinieri per denunciare Michele ma Federica dice sempre di no è terrorizzata dal fatto che potrebbero portarle via i bambini Michele l'ha perseguita non solo con le botte ma anche psicologicamente per farla passare come una matta o con dei problemi psicologici anche se i rapporti con Federica e Michele stanno peggiorando Gabiria continua a frequentarlo è la dipendenza della sostanza la ragione per cui accetta la sua compagnia una sera Gabiria finisce di lavorare al bar fa la chiusura e poi va con lui ad un festino organizzato nel capannone dell'azienda di Michele ci sono tante ragazze tanto alcol e anche tanta tanta sostanza Michele si apparta con più di una ragazza e naturalmente tutto avviene all'insaputa di Federica quest'ultima non immagina neanche che a quella festa ci sia sua sorella è il mese di maggio Federica e Michele hanno nuovamente litigato e lui l'ha sbattuta fuori di casa le ripete che è lui quello che paga l'affitto quindi quella che se ne deve andare è lei Federica quel giorno si incammina a piedi con i due bambini da Cancello il paesino dove vive a Montorio il paesino in cui vive sua mamma in quella zona tra l'altro il telefono non prende quindi la donna non può neanche chiamare sua madre per chiederle aiuto cammina insieme ai suoi due figli sotto il sole per 10 km quando arriva da Loredana Federica decide di rimanere un po' di tempo a casa sua le due donne insieme tornano a Cancello nella casa che condivide con Michele per prendere alcuni suoi effetti personali Federica non accetta questa situazione non accetta di aver fallito lei vuole avere una famiglia vuole che la sua famiglia resti unita e soprattutto vuole una casa per lei e per i suoi bambini si rende però conto che la relazione con Michele non può proseguire e decide di lasciarlo i due quindi si accordano Michele lascia la casa lei può rimanere lì con i bambini mentre lui può rincasare solo una volta a settimana di solito la domenica per poter vedere i bimbi ma in uno di quei weekend Gabiria si ferma a dormire a casa di Federica lui rientra circa alle 2 del mattino dopo aver consumato abbondante sostanza Gabiria sta dormendo sul divano Michele le si avvicina poi si stende vicino a lei la donna si sveglia all'improvviso sente chiaramente una persona che si distende dietro di lei le tappa la bocca e le tira le mutande per avere un rapporto Gabiria quindi si alza non sa come comportarsi ma è tardi non vuole fare confusione quindi prende le sue cose velocemente e se ne va la sorella a questo punto vuole parlare con Federica è indecisa non sa se raccontarle tutta la verità e non sa come potrebbe prenderla ma si fa coraggio si avvicina e le dice che l'uomo che è in casa non è migliore di lei anche lui fa uso di sostanze inoltre è inutile che la sorella porti Gabiria in casa sua per salvarle la vita dalle sostanze quando quella casa è piena perché Michele è solito girare con dei sacchetti pieni Federica però non vuole credere a ciò che Gabiria le racconta quest'ultima si arrabbia ancora di più ed esplode dicendole com'è possibile che non te ne sia mai accorta Federica però crede che quella sia una provocazione di sua sorella visto che conduce una vita così sbandata e convinta che stia puntando il dito contro Michele col solo scopo di farle litigare ancora più di quanto già non stanno facendo Gabiria a questo punto non si ferma e le racconta anche del tentativo di violenza subito da parte di Michele ma non serve proprio a niente Federica non le crede le due sorelle finiscono per litigare e purtroppo questa è l'ultima volta in cui si vedranno Gabiria prima di andarsene dice a Federica guarda chi hai in casa prima di giudicare e guardare me in quel periodo in effetti Gabiria ha rotto i rapporti un po' con tutti anche con mamma Loredana dopo la separazione da Michele e Federica per non far mancare nulla ai suoi figli intensifica il lavoro lavora in un'agenzia di viaggi la mattina in un centro benessere il pomeriggio Michele intanto può vedere i figli solo nel fine settimana ma un weekend dopo aver tenuto i bambini non li riporta da Federica bensì li lascia dai suoi genitori Federica allarmata non vedendoli tornare decide di chiamare i carabinieri questo episodio scatenerà ancora di più l'aggressività di Michele l'uomo è infuriato con Federica interpreta quel gesto della donna come un affronto e per questo decide di punirla una notte entra in casa inizia ad aggredirla la colpisce le tappa la bocca e cerca di soffocarla e i bambini sono nella stessa stanza Michele a un certo punto prende il filo del caricabatteria del telefono e lo stringe attorno al collo di Federica la donna fortunatamente riesce a divincolarsi e a cacciarlo di casa ma c'è un fatto Michele ha provato ad ucciderla se non fosse riuscita di vincolarsi probabilmente sarebbe morta strozzata dal filo di quel caricabatterie a questo punto disperata chiama sua mamma e le racconta quello che è successo dicendole chiaro e tondo questa volta mi voleva uccidere non era proprio in sé sua madre le dice che basta è inutile far finta di nulla c'è qualcosa che non va e Michele perché anni prima non si sarebbe mai comportato in questo modo non era neanche solito reagire con violenza aggressività ma Federica ancora prova a scusarlo o forse più che scusare lui prova ad autoconvincersi che la situazione non è così drammatica in fondo Michele sta passando un periodo difficile buio ecco perché non lo denuncia neanche questa volta Federica spera sempre che cambi e che torni ad essere il Michele che aveva conosciuto la donna si è infilata in una strada senza uscita lontanissima da quella che sognava da bambina lei che voleva essere indipendente girare il mondo ora si trova chiusa in una stanza a tremare di paura insieme ai suoi figli ostaggio di un uomo che la perseguita Federica dopo quell'aggressione decide di cambiare casa e si trasferisce in un paesino vicino a Montorio arriviamo al 19 novembre del 2005 quel pomeriggio Federica va a fare la spesa lascia i bambini a casa di sua madre che li tiene con lei fino a sera la signora Loredana bada ai nipotini e prepara la brace nel tardo pomeriggio Federica torna con le castagne così tutti insieme decidono di fare la cosiddetta castagnata cuociono le castagne e le mangiano la donna si trattiene lì fino alle 21 e 30 circa Federica in questo momento è serena tanto che Loredana le chiede di Michele la donna dice a sua madre che è addirittura contenta perché l'uomo non si fa sentire né vedere da ormai 20 giorni Federica quindi spera che Michele si sia trovato un'altra donna così da scordarsi presto di lei dopo la cena quando torna a casa Federica accende il caminetto mette a letto i bambini e si rilassa sul divano finalmente può godersi le ultime ore di quella bella giornata serena prima di andare a letto ma verso le 23 Michele telefona a casa di Loredana la mamma di Federica chiedendole se per caso Federica è ancora lì oppure è tornata a casa Loredana risponde con sincerità Federica è tornata a casa poco tempo prima sono le 23 e 30 quando Michele entra in casa di Federica grazie a delle chiavi di scorta è ipotizzabile che quella sera sia scoppiata un'altra forte discussione tra i due l'uomo è pieno di rabbia e quindi come già aveva fatto in passato aggredisce Federica picchiandola pesantemente il sangue macchia il pavimento intanto i bambini stanno dormendo nell'altra stanza ed è probabile che Federica per non svegliarli eviti di urlare così Michele riesce a spingerla a terra afferra un cuscino e glielo preme sul volto fino a portarla alla morte la casa ora è di nuovo immersa nel silenzio non si sente nessun rumore e Michele ha bisogno di tempo per pensare dopo aver pulito il sangue dalle piastrelle decide di portare il corpo di Federica fuori dalla casa poi attraversa il cortile scende in garage va a prendere la macchina e prende anche una tanica piena di benzina riporta poi la macchina davanti a casa e carica Federica sul sedile lato passeggero cerca di fare in fretta per non farsi notare dai vicini è notte fonda poi mette in moto e parte sa già dove deve andare percorre una strada in salita fa inversione di marcia per mettere la macchina in discesa la strada è distante solo poche centinaia di metri da casa di Federica a questo punto bagna la macchina con la benzina sia fuori che dentro l'idea è quella di dare fuoco all'auto e di spingerla nel burrone che costeggia la strada è convinto che in questo modo sembrerà un incidente Michele comincia a spingere la macchina ma qualcosa lo blocca è un paracarro sul bordo della strada mentre continua a spingerla un finestrino esplode ferendolo pesantemente al volto Michele però non si arrende e riprova a spingerla poi però si rende conto che non può fare nulla quindi si allontana l'esplosione intanto sveglia i vicini Giampaolo Cambioli viene svegliato da sua moglie la quale gli racconta di aver sentito chiaramente un grosso boato e poi dei rumori simili a fucilate quando il vicino arriva davanti alla macchina che brucia le fiamme sono così alte che non si riesce a vedere nulla chiede se c'è qualcuno nella macchina ma non riceve risposte e quindi chiede alla moglie di chiamare i vigili del fuoco intanto si muove con suo figlio tornano a casa prendono due estintori e corrono di nuovo sulla strada per cercare di spegnere l'incendio che sta cominciando ad aggredire il bosco di vicino poco dopo sul posto arrivano i vigili del fuoco che sono convinti di trovare una vettura in fiamme a seguito di un incidente stradale si mettono al lavoro e spengono le fiamme quando l'incendio inizia ad affievolirsi viene fatta una terribile scoperta uno dei pompieri crede di aver visto la sagoma di una persona all'interno della macchina ma a causa di fumo e fiamme non è sicuro al 100% i vigili del fuoco cercano di spegnere l'incendio nel più breve tempo possibile ma il fumo ancora molto denso impedisce di vedere all'interno dell'auto è solo al termine di quella lunga notte che il fumo si dirada e quel che resta del corpo carbonizzato di Federica diventa visibile i pompieri sono convinti che chi era la guida si era spontaneamente allontanato dal luogo dell'incidente però il paraurti dell'auto non è difformato lo sportello posteriore sinistro risulta aperto non ci sono segni di frenata lungo la strada il dirigente della squadra mobile di Verona capisce immediatamente che c'è qualcosa che non va nella dinamica di questo incidente Michele dopo aver appiccato il fuoco è corso verso casa di Federica i bambini ignari stavano ancora dormendo l'uomo si fa una doccia si disinfetta le ferite e cerca di calmarsi intanto sul luogo dell'incendio la polizia comincia le indagini per questo strano incidente il primo problema da risolvere per le autorità è l'identificazione del cadavere la targa posteriore dell'auto è caduta a terra durante l'incendio ma è ancora leggibile la macchina risulta intestata ad una certa Federica Corsi sono due vigili del fuoco ad andare subito a casa di Federica quando arrivano trovano la porta socchiusa entrano ma l'abitazione è immersa nel buio e nel silenzio in casa però c'è qualcuno si apre una delle porte della zona notte dell'abitazione e ne esce un uomo il quale chiede chi siano cosa vogliano e cosa ci facciano lì uno dei pompieri allora domanda se quella è l'abitazione di Federica Corsi e l'uomo risponde che sì Federica Corsi è la sua compagna e abitano in quella casa assieme a questo punto il pompiere chiede se per caso la signora è in casa e l'uomo risponde non lo so i vigili del fuoco a questo punto sono perplessi come fa questo uomo a non sapere se la sua compagna sia in casa o meno il pompiere fa un giro per la casa apre una porta e trova dei bambini che stanno dormendo in un letto matrimoniale così decide di lasciarli stare uno dei pompieri dice al collega di rimanere in casa in modo che appena l'uomo è pronto venga portato sul luogo dell'incidente Michele ha il volto pieno di ferite per lo scoppio del vetro dell'auto ai vigili la situazione diventa sempre più chiara e Michele a questo punto crolla racconta a uno dei vigili del fuoco che c'era anche lui sull'auto quando è successo il fatto era stato abbagliato da un'altra macchina ecco perché avevano avuto questo incidente era sceso aveva sentito uno scoppio aveva visto le fiamme e non era riuscito a tirare fuori Federica dal mezzo Michele quindi fornisce la sua versione dei fatti e comincia a raccontare dell'incidente ma la sua versione non è convincente diventa ben presto chiaro che il colpevole è proprio lui a quel punto i vigili del fuoco si fanno da parte e la polizia prende in mano la situazione nel frattempo sul luogo della tragedia arriva l'ambulanza e viene avvisata la madre di Federica la signora Loredana esce di corse e va anche lei sul luogo dell'incidente si ferma davanti alla macchina della figlia il corpo all'interno è coperto da un telo e per il fumo non si riesce a vedere quasi nulla è Loredana a svegliare i bambini e a farli vestire nel frattempo arrivano anche il figlio di Luca e sua moglie Luca è il fratello di Gabiria e di Federica così i bambini vengono portati proprio via dallo zio Luca e dalla moglie non possono restare più in quella casa ed ora in avanti sarà nonna Loredana a prendersi cura di loro intanto le indagini proseguono e si scopre che Federica era già morta quando la macchina è stata data alle fiamme l'autopsia parla di una causa asfittica violenta uno strangolamento vengono ritrovate diverse tracce matiche in vari punti della casa oltre alle tracce sul giubbino e sui pantaloni di Michele il DNA chiarisce che quel sangue appartiene a Federica Michele viene condannato col rito abbreviato in primo grado a 20 anni per omicidio volontario in appello l'omicidio volontario viene derubricato a omicidio preterintenzionale e la pena scende a 14 anni la sentenza è definitiva dopo 4 anni Loredana è riuscita a far togliere la patria potestà a Michele e ad impedirgli di vedere i bambini io ho finito di parlare in questo video spero che questo caso possa essere stato di vostro interesse conoscevate questo caso a me come al solito mi colpiscono parecchio questi casi insomma ma la cosa che mi ha fatto più piacere leggere è che Michele non ha più nessun diritto su quei bambini non li può neanche più vedere questa cosa mi rincuora sono onesta mi rincuora particolarmente voi che cosa ne pensate fatemi sapere quello che pensate di questo caso qui sotto nei commenti come vi dico sempre ci vediamo qui sotto nei commenti ci becchiamo qui sotto nei commenti io vi mando un bacione mi raccomando fate i bravi continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici basta che non facciate nulla di criminale ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti.